Buongiorno a tutti, allora come inizio si fanno i complimenti alla primavera ai ragazzi di De Rossi per il risultato raggiunto e non è il primo, De Rossi allenatore che da più anni, nonostante gli siano state cambiate delle squadre, ha fatto vedere quello che è il suo valore, la sua qualità e poi naturalmente che siamo vicini al dolore della famiglia di Michele Scarponi. Si può cominciare? Iniziamo con le domande, inizia Paonessa Roma TV Buongiorno mister, è stata una settimana molto lunga, la Roma ha giocato sabato, si gioca domani sera questo ha permesso ad alcuni giocatori di allenarsi in maniera specifica e soprattutto ad Emerson di tornare in gruppo le chiedo prima di tutto come sta l'Italo-Brasiliano e poi se avere tutto il gruppo, poter lavorare durante la settimana con tutto il gruppo in buona salute può essere un fattore decisivo in questi 40 giorni che rimangono alla fine della stagione? Emerson fa vedere di essere quasi guarito perché poi deve fare degli allenamenti in maniera continuativa per raggiungere il top e magari rifare anche qualche partita, però a posto, siamo contenti di quello che è il risultato attuale. Poi per quanto riguarda la possibilità di allenarsi con quasi tutta la squadra è sicuramente un vantaggio perché far venire fuori degli allenamenti di qualità ti permette poi di andare a toccare quei tasti con delle frequenze, con dei ritmi, con delle scelte che assomigliano alla realtà. Fare allenamento in 22 in campo è sempre meglio perché hai la possibilità di lavorare sul concetto di squadra, dell'assieme e della qualità di chi hai davanti per cui è un valore in più. Abbiamo avuto questa settimana piena, è chiaro che quando hai tanto tempo poi bisogna sapere alternare, i giocatori si debbono allenare ma debbono anche recuperare, abbiamo cercato di fare quello che è corretto fare, ma quando hai più giorni a disposizione in generale è un beneficio per la squadra e per il lavoro. Giannini, Roma Radio. Buongiorno mister. Buongiorno. Quali sono le insidie di partite come questa nelle quali ci si trova di fronte squadre quasi retrocesse? Le insidie sono molte. Prima di tutto perché non esiste mai una squadra che parte male e finisce malissimo avendo poi sempre gli stessi risultati. Si vedono che ci sono dei momenti dove il grafico cambia notevolmente, dove poi vengono fatte delle prestazioni importanti e dei risultati anche che nessuno si aspettava, come è successo anche nelle ultime domeniche. E poi c'è una valutazione obiettiva di quelli che hai davanti, della squadra che hai davanti. Il Pescara secondo me è una buona squadra in generale. È una squadra che ha passato anche dei buoni periodi non facendo risultato. La stessa cosa la dicevamo dell'Empoli. L'Empoli perde sempre, perde sempre, perde sempre. Però gli si vedeva quel target di squadra, quel timbro, quel modo di stare dentro che era un lavoro quotidiano dell'allenatore in cui loro credevano perché lo eseguivano bene. Poi il risultato non gli dava merito per quello che era la qualità del lavoro. Però poi sono stati premiati, si è visto il Crotone che è stato premiato e via dicendo. Pescara ha diversi ex, Zeman ora ultimamente mi sembra che abbia anche modificato qualcosa del suo modo di fare in queste ultime partite. L'ho vista meno sbarazzina come squadra, ha tentato di apportare delle modifiche perché ritornano bassi, fanno queste vampate di contropiede, di ripartenza forte, però non sta di là la metà campo. 90 minuti lasciando campo alle spalle della linea difensiva. Diciamo, fra le cose che aveva dato a vedere, ha mantenuto un po' il meglio e ha cercato di apportare modifiche a quello che gli creava più difficoltà. Per cui le insidie ci sono sempre. La partita d'andata, la partita d'andata io la ricordo bene, abbiamo fatto una fatica enorme. Poi siamo stati bravi e abbiamo usato probabilmente la migliore qualità di alcuni nostri calciatori. Però è stata complessivamente una gara molto articolata. Angelo Mangiotti, che sport. Sì, ma il temperamento, le motivazioni, la fame di vittoria della squadra, quali elementi possono fare la differenza, calendario a parte, nella corsa al secondo posto tra Roma e Napoli? Gli elementi sono diversi. Secondo me una squadra come la Roma, una squadra come il Napoli deve contare sulle proprie qualità, su quello che sarà il premio a fine campionato. È lì che esibiremo poi la pagella del nostro lavoro. C'è un obiettivo, forse quello più importante durante il lavoro di una stagione, è che squadra sei diventato quando arrivi in fondo. Noi abbiamo la possibilità di finirlo bene questo campionato, nonostante che poi se si va a vedere il calendario, come avete scritto più volte, il Napoli probabilmente lo abbia un po' più facile. Ecco, però noi siamo una squadra forte, come loro sono una squadra forte, abbiamo la possibilità di fare la nostra corsa. Fare la nostra corsa. Noi abbiamo portato in fondo, quasi in fondo, un campionato dove abbiamo avuto delle difficoltà in alcuni momenti. scusate, abbiamo avuto delle difficoltà e abbiamo anche rallentato, ma mai siamo andati indietro. Per cui bisognerà vedere poi quello che riusciamo a fare in questo ultimo pezzo di campionato. questo ultimo pezzo di campionato, che è corto e che diventa importantissimo, per cui siamo nelle condizioni, visto che non ci sono altre competizioni, di potersi allenare bene, come dicevamo prima, e di farlo nel migliore dei modi, perché abbiamo una qualità importante e quindi possiamo fare un risultato importantissimo. Maida, Corriere dello Sport. Buongiorno. In questi giorni Zeman ha parlato bene di lei, dicendo che il problema della Roma non è Spalletti, ma è il fatto che ci sia un progetto che prevede sempre dei cambiamenti nella squadra, nella Rosa e tutto quanto. Le volevo chiedere se anche questo motivo, questo progetto, che comunque determina delle necessità anche finanziarie, è alla base dei suoi dubbi sul futuro. No, noi... Ragazzi, io con la società ho parlato, è un contatto diretto, io ho accettato di lavorare con quello che era e che è la Roma, per cui ci lavoro con tutto l'entusiasmo possibile. Come dicevo prima, c'è il risultato finale che determinerà molto, perché in queste partite può cambiare quello che è l'idea che ti sei fatto dell'altro e viceversa. Siamo tutti concentrati a tenere duro fino in fondo. L'obiettivo è tenere duro fino in fondo, non darla vinta a nessuno, a quelli che in alcuni momenti ci hanno detto che tanto non ce la farete o è il momento dei processi o voi siete dei mediocri. No, noi terremo duro fino in fondo e poi ci si incontra e si traggono le conclusioni finali, perché poi fare male tre o quattro partite di fila allora sarebbe veramente una cosa nuova per quello che ha fatto vedere la Roma. Noi quando siamo partiti abbiamo fatto discorsi anche di quello che saremmo riusciti a costruire. Secondo me questa squadra come dicevo prima ha fatto vedere una linearità di modo di lavorare e di risultati dovendo superare anche delle difficoltà. Per cui dobbiamo finire così ora abbiamo queste partite non dobbiamo assolutamente abbassare un centimetro e vogliamo giocarci questa posizione importantissima perché poi si fanno tanti discorsi ma anche nelle ultime dieci partite la Roma mi sembra che ne abbia vinte otto pareggiata una e persa una delle ultime dieci partite per cui noi vogliamo finire così vogliamo andare avanti così. In fondo in fondo ci si confronta se sarà questo il risultato cioè di quello che è stato l'andamento di tutto l'anno secondo me tutti abbiamo fatto il nostro dovere il nostro lavoro al massimo abbiamo messo dei contenuti importanti nel nostro nel nostro tragitto nella nostra costruzione di che squadra siamo diventati dove c'è la possibilità di lavorare in maniera importante in futuro insomma ecco Fagnano Rete Sport Buongiorno Mister Fazio ha detto in settimana che il pareggio contro l'Atalanta non cambia nulla perché la Roma resta comunque una squadra forte con il contributo degli ascoltatori le volevo chiedere questa è la mentalità giusta per preparare la sfida contro il Pescara oppure il pareggio contro l'Atalanta un po' ha cambiato tutto grazie ho detto che è una squadra forte e che e che nonostante abbia sbagliato un tempo della partita noi rimaniamo convinti che possiamo vincere la prossima partita mi immagino volesse dire rimaniamo convinti di poter continuare ad avere una sostanza importante di risultati perché c'è una sostanza importante di risultati anche in quei numeri che ho che ho detto prima noi tentiamo di andare a vincere la partita tentiamo di andare a proporre quello che è la nostra qualità di giocatori e di gioco non sarà facile come ho detto prima ma non solo in questa partita qui anche in quella successiva Rudiger è un bell'atleta è una bella persona è un calciatore importante per la Roma Ziantoni Teleradio Stereo mister buongiorno ok mister allora Nicchi ha detto che ormai siamo pronti per per la VAR tantissimi addetti ai lavori non sono d'accordo con insomma la tecnologia in campo la moguola in campo perché dicono che ad esempio nei contrasti che possono portare i calci di rigore non si può valutare la forza con cui si interviene su un giocatore in più è l'arbitro che sceglie quando andare a vedere se l'azione è da ritrattare oppure si può andare avanti così lei che ne pensa è favorevole la VAR è tutto giusto sì io sono favorevole ed è chiaro che ci sono delle delle motivazioni dove diventa fondamentale e diventerà poi facile tirare le conclusioni corrette ce ne sono altre però che come come diceva lei che rimarranno sempre dubbiose perché poi la forza del contatto la forza del dell'impatto non riusciremo a valutarla anche se riguardandola e sezionandola qualcosa di più si capisce per cui in generale sono favorevole perché si vedono a volte dei calci di rigore dati dove non c'è proprio nessun tipo di contatto dove l'avversario non tocca il dove il difensore il difendente non tocca l'attaccante per cui quelli sono brutti da accettare capito quello mezzo e mezzo un po' di dubbio rimarrà ma la percentuale sarà molto inferiore insomma ecco grazie a tutti grazie grazie grazie